Un piano perfetto. Sono splendidi. Valeva la pena aspettare. Niente viene prima di Diabolic e della sua cattura. Niente. È un'ossessione per te. Stavo per catturarlo. Quando accadrà, la nostra vita cambierà. Quell'uomo che diceva di amarmi... ...mi ha abbandonata. E adesso voglio vindicarmi. Diabolic ha bisogno di fare un colpo al più presto. ...mi ha abbandonata. ...mi ha abbandonata. Che siamo. ...mi ha abbandonata. No, non c'è nulla o mai come. No, non c'è nulla o mai come. L'euro... ...maia non è più nulla o mai. Ginkgo. Grazie.